Feri e Niki, la nuova casa è pronta, vieni a vederla Ma è terribile, che hai fatto? Ascolta, l'unica cosa terribile è quella a tua faccia Non provarci Chiedi subito perdone e forse ti danno una mano a fare una bella casa E ragazzi, come va? Io sono Feri e Niki E oggi siamo tornati nel nostro pianeta per dedicarci alla costruzione di una bellissima casa Dato che al momento non è proprio bella, quindi cercheremo di migliorarla Scusa, ma hai gli occhiali da sole? Che problemi hai? Guarda che meraviglia Ci vedo benissimo e purtroppo vedo anche quanto sei brutto tu, quindi Sono bellissimo Non continuiamo perché davvero questa casa è un po' spoglia, capito? Non ha neanche le finestre Come puoi dire che è bella? Ti ho messo un tetto sopra la testa, cara mia, e quello io ho fatto Poi il resto va sistemato Avrei preferito scavare una buca e vivere lì dentro, guarda Quindi non dire queste cose Comunque, a parte gli scherzi, come avete visto Abbiamo soltanto fatto la struttura perché volevamo costruire la casa insieme a voi Quindi dentro queste ceste c'è tutto quello che ci serve per sistemare la casa Finestre, porte, materiali La faccia di Feri e Niki Tutto quello che serve per questa casa è pronto e qual è la nostra idea Allora vogliamo cambiare questo terreno che è terribilissimo No, l'erba è super fastidiosa, guarda che punto da fastidio, non mi piace Esatto, poi ci sono le formiche, cioè è proprio fastidioso Volevamo cambiarlo con la strada in pietra Perché ancora non abbiamo mai provato a metterla E potrebbe essere molto molto carina esteticamente dentro la casa Che poi a proposito di strade Sì Vieni, non abbiamo fatto vedere quella che abbiamo fatto È vero E scusa, questa sì che abbiamo fatto Sai che mi ero dimenticato? E lo so, ormai sei talmente abituato a vederla Comunque sì, vieni Esatto Facciamola vedere qua perché come abbiamo promesso L'abbiamo fatta che collega alla foresta Infatti qua c'è il carretto per andare in giro Sì Una cesta per raccogliere i materiali E quindi diciamo che è un inizio, non è lunghissimo E poi guardate, va sia dritta sia destra Però vieni con me Visto che mi hai ricordato questa cosa della strada che avevo totalmente dimenticato Ti mostro una cosa Vieni, qua c'è un cartello Io non lo so C'è un messaggio per te Quindi voglio che tu lo legga Vai Cosa è scritto? Eh, leggi, leggi, tranquilla Non succede nulla di male Stavamo dicendo che oggi faremo una bellissima casa Quindi torniamo indietro e iniziamo a fare un po' tutto Esattamente Allora abbiamo messo a craftare la strada in pietra Da mettere come pavimento per la casa Che ci voleva una vita 50 minuti per essere craftato Quindi stiamo aspettando da un po' E dovrebbe essere ben messo Quindi andiamo a controllare se ha finito o comunque come è messo Dopodiché uno lavora a iniziare a fare, diciamo, la parte di sopra Uno invece si diverte a scavare il terreno e a sostituirlo con la pietra Tu scavi! Ok? Ti uccido Vannoci provare Allora abbiamo fatto anche questa piccola stanza Perché giustamente altrimenti non ci stavano tutti i tavoli che ci servivano Esatto, li abbiamo dovuti separare Poi butteremo giù tutto Sì, voglio spiegare che questo di dentro non è la sistemazione definitiva dell'estate Al momento dovete vedere la casa come un cantiere di lavoro Perché poi il vero lo facciamo adesso piano piano insieme a voi Comunque ha finito Quindi dovresti averla qua in privato tutta la strada Eccole qua! Io inizio a scavare! Ma che bel castello! Sono troppo emozionato! Cosa abbiamo bevuto a colazione? Whisky? Oggi? Latte scaduto! Mi sa molto di sì Molto di sì Allora è molto Ah, stai zitto un attimo! Accidenti e fammi concentrare! Ti sto scavando una fossa Ma che mi incastri! Ti piace? Aiutami Ti piace? Eh A me? No No Devo essere sincero nella vita Non mi piace È bruttino Abbiamo sprecato 50 minuti per fare Tantissima pietra No, il fatto è che essendo le mura di legno Secondo me ci sta meglio il pavimento Questo sta proprio di strada, capito? Che poi non abbiamo fatto la strada Ma abbiamo fatto semplicemente la parte in stone Perché poi la strada è ancora diversa Ha proprio l'asfalto come la realtà Sì, è ancora diversa È vero Lo sapevo Mi sembra... No, non mi piace Ti dico la verità Non mi piace Facciamo così Tu vatti a prendere la legna Vattene nel tetto a iniziare a fare il secondo piano Ok Ricordati che voglio anche un balconcino nel secondo piano Ovviamente Ovviamente Io nel mentre trovo una soluzione per il pavimento Vedo un po' tutto quello che si potrebbe captare Allora, io li ho messi nella cesta in mezzo della seconda fila Ok Mettili là così Almeno non abbiamo Vabbè, ma li lascio nel win rig table Dai, non danno fastidio a nessuno Mettili in ordine Win rig table Ok Mettili in ordine Dovrebbe essere quello in legno come avevi detto Quindi io per ora continuo a scavare Ok Dopodiché Prova a piazzare un po' di legna E speriamo che verrà tutto per il meglio E speriamo bene Non rimanere con un buco gigante in casa Esatto Perché altrimenti avremo un buco gigante in casa Sarà molto molto bello Comunque una cosa che non abbiamo detto È che vogliamo fare pure una specie di cantina garage Dove provare a mettere il query E costruiamo pareti e pavimento In quel caso tutto appunto in pietra Sì, è una buona idea È una buona idea Perché ha bisogno di molto spazio Abbiamo visto che è davvero gigante Esatto Quindi ha bisogno di un sacco, sacco di spazio E così darà più la sensazione comunque di tipo un'officina O qualcosa del genere Sarà decisamente molto, molto figo Funziona, funziona, funziona Confermo Guarda Aspetta che vengo a vedere Le parti che si uniscono diventano troppo, troppo carine Oh mamma mia che bello Adesso vieni a vedere e dimmi cosa ne pensi Vedi? Oh sì, sì, sì Ma hai messo il legno normale o il borda alla fine? Legno normale Ok Mi ci vorrà una vita e mezzo Ma sono pronta a lavorare sodo Allora devo togliere anche questi pezzi di terra Vediamo se crolla tutto Sai che non crolla? Ferenichi dove sei? Vieni Arrivo Ovviamente la scala esterna che vedrete è provvisoria Probabilmente ne metteremo una dentro Per fare la corsa al secondo piano Quindi per ora l'abbiamo giusto sistemata così Facciamo così Sondaggio Volete una scala che vada fuori E che magari tipo cosa ne so Questo sarà il balconcino Questa parte che rimane più esposta Esatto Magari si mette una scala tipo da dietro Tipo da qua o cose del genere E dal balconcino si entra al secondo piano Oppure una scala che sta interna Vi mettiamo il sondaggio Decidete voi questa cosa Ok Sì Scegliere i consolini un po' di cose Scusami Mi piace Che qua non dobbiamo costruire solo noi Questo invece è il buco dove ci sarà il garage Slash officina Slash cantina Slash quello che sarà Esatto Ho scavato talmente tanto che il mio personaggio sta morendo letteralmente di fame Quindi vieni qua Che qui avevamo depositato un po' di cibo E ci facciamo uno spuntino Tu hai fame? Eh sì a voglia Non troppissima però sì Allora Allora Secondo me il mio personaggio sarebbe felice di mangiare un po' di popcorn Sì 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 Li piacciono Non sono proprio popcorn Bene 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 sì Guarda com'è felice Sì 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 Come sale la fame Ok A questo punto Vitamine sono abbastanza buone Carboidrati sono altissimi Uno di carne No Non la voleva Se io ho quasi finito di scavare tutto Manca soltanto praticamente la zona delle chest A quel punto dobbiamo mettere un sacco un sacco un sacco di legna E ci siamo Comunque ci dobbiamo mettere una regola Ok Da ora in poi tutto quello che costruiremo dopo questa casa che cerchiamo di finire Cercherà di essere in pietra mattoni eccetera Perché stiamo disboscando il mondo Non possiamo rischiare di far estinguere gli alberi dal nostro bellissimo pianeta Anche se poi dai non è che prendi così tanta legna alla fine perché Beh grazie ai talenti che ho messo io ce la cadiamo Con i talenti sì 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 Però non voglio esagerare Sinceramente non so dopo quanto facciamo danni seri Quindi non rischiamo Non giochiamo con gli alberi Che simpatico Che battuta terribile Grazie Quasi tolta tutta la terra 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 di legna rimasta Ne hai usato davvero tantissima tu Eh vanno fatti i tre piani Spero che possa bastare Vediamo iniziamo e vediamo un pochettino C'è due piani da tre vuol dire vabbè Vabbè si è capito Non ce la può fare Prendiamo legna e costruiamo il pavimento Oggi canto un sacco di canzoni Perché sono allegro per la nuova casa C'è bisogno Sono terribili ste canzoni Sono inascoltabili Solo perché non le canti tu No non credo grazie Allora sto iniziando Prova a cantarla vedrai come ti piace anche a te Dovevo dire una cosa seria dai Dicevo sto iniziando a delimitare anche le stanze sopra Ok Perché tanto sarà tutto diviso Penso che ne usciranno tre Mi sembra Una per i bambini Una per noi E una per i cani No una per il weary table Una per l'altro tavolo Una per l'altro tavolo ancora Oh i tavoli vanno trattati bene Scusa Eh sì Sono avvitiati I tavoli da lavoro Poi litigano tra loro Ne metti più di due in una stanza Vedi come litigano Si prendono a schiaffi Una roba incredibile Esatto Smettiamola Opla adesso fra poco vengo a vedere Ma anche qua tu fra un pochettino Puoi già vedere La bellezza del nostro nuovo pavimento Questo è parche pregiato Lo sai? Ok in bellissima Proprio di quercialata È un albero molto importante Molto famoso Infatti Costa tantissimo È proprio Sì immagina Un metro quadro di questo parche Sai quanto costa nella realtà? Quanto? 700 euro Sì vabbè È vero I tuoi sogni magari Siamo fortunati È la quercialata Scherzi Smettila dai La devi smettere oggi Ma che meraviglia è? Ti piace? Sì sì Mi piace molto A parte sto buco È l'unico difetto Tra la terra Che secondo me è la terra Che si vede da lì Quindi ho un'idea Ma se mettiamo Aspetta Se tu scavi Anziché mettere pavimento E metti un'altra asse di muro Esatto 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 Voglio fare proprio quello Sì 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 Vuol dire altra legna Altro lavoro Altra pala Allora non la finiremo tutta oggi Sì ma lo devo fare Non lo devo fare questo Assolutamente Allora andiamo a vedere la tua zona Dopodiché tu lavori su finestre e porte E io finisco di scavare quella roba Ok Questo è quello che ho fatto Faccio scavare un po' a te I muri delle stanze ovviamente non sono finiti eh Ok I buchi che vedi sulle finestre Questi per le porte Sarebbero una o due Ok Questa stanza è questa qui Queste due sono molto grandi Ah Quindi non so se poi sarà necessario dividerle ulteriormente Ok Posso fare diciamo spazi diversi Però per ora mi sembra qui Che sia figo Posso fare una domanda Questo è il balcone che c'è E il soffitto E non l'ho finito ovviamente Ma allora ci serve tantissimo Esatto esatto Ma come pretendevi che l'ho finito Pensa che le mura Te l'ho detto L'ho fatto levando gli spazi delle finestre Cioè come pretendevi che facessi un soffitto Ma c'è un problema Con che legna Ci piove in testa Ma rimaniamo all'aperto dai Un piano Tanto qui non piove mai poi Mi son pentito di averlo voluto fare subito Però guardate che meraviglia Ti sto per uccidere Accidenti a te 25 minuti a fare questa cosa Ma adesso la casa 100 volte più bella Oh c'è un buco qua Ops Non volevo Scusate Consolini C'è un buchetto qui Devo risolvere un attimo La pace ovvita Dov'è? Della legna Datemi immediatamente legna Datemi immediatamente Poi comunque c'è qualcosa da sistemare Un po' fuori Perché abbiamo lasciato Sì fuori c'è un po' di terra ovunque Cumuli di terra un po' ovunque Ma quello si può fare tranquillamente Fuori dai video Comunque devo dire che il pavimento Così legno è 3000 volte meglio Sì è totalmente un altro diverso Il livello di casa Bellissimo Mettiamo a craftare tipo 60 di board Dai mi piace Due minuti perché Steph È un carpentiere formidabile Ascolta quanto ci vuole per fare il recinto? Perché volevo fare almeno il balconcino sopra Te lo dico subito Quanto ci vuole? Il tuo carpentiere Te lo dice immediatamente Allora in questo tavolo da lavoro Quello del carpentry L'ho visto Ed è pure bianco E costa la legna Che noi non possiamo fare È uno un po' più semplice Magari non legna bianca Non c'è No non dirmi che non c'è Non c'è Dovremmo aspettare per quello Oh no Praticamente abbiamo bisogno di fare il So meal E ci servono semplicemente Quattro lingotti Ok Quindi è colpa tua se non possiamo Eh ma che accidenti Dico io Non li possiamo fare di legna normale Come li fai su Minecraft Che all'inizio sono quelli proprio base in legno Ma li chiama wood fence Poi magari sono bianchi Non lo so Ma non è quello il problema Ma non lo voglio bianca Mi va bene anche il legno puro Se non ti devi preoccupare Non è che me li devi far fare molto elaborati Il balconcino lo dovremmo finire in un altro momento Ma no Mi spiace Mi spiace tantissimo Allora la parte più bella Allora io non so come dividere le stanze qua sotto Perché a me piace molto Io lascerei parecchio aperto sotto Devo essere sincero Allora su se tutto va bene abbiamo quattro stanze Se tutto va bene le cose ci stanno Perché adesso non so di preciso quanti quadrati debbano essere Sicuramente non ci capisco mai nulla Lo so Non lo so Allora io questa magari la lascerei Posizionerei giusto i tavolini in un modo diverso Vediamo un attimino Se però posso continuare a potenziare carpenteria Per magari fare più in fretta finestra O farle meglio Qualcosina secondo me la trovo Ok Allora vedi Qua ad esempio c'è un sacco di roba Mi ridurrebbe il costo di materiali Non ci sono Ah si wood window Eccolo 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 Allora mettiamo questo tantissimo E le finestre ci costano meno Sì 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 Poi le wood fence per farle costare meno Ma purtroppo per colpa di ferinichi Non le possiamo fare Quindi Ti do fuoco Tu non mi vedi ma io ho una torcia Anche io ho una torcia Stai bruciando da sola nel mio cara Io sto vedendo te che bruci E io te che bruci Te l'ho proprio messa in faccia E la faccia tutta rossa E soprattutto tutti i consolini Vedono te che bruci Non io Tutti sanno che sei tu che stai bruciando Mi credono sulla fiducia Sì credici Dai che punto sei? 130 punti in carpenteria Vabbè tantissimi Però adesso crafto proprio che è una meraviglia Mi vedi lì costruire le peggio cose Velocissimo Super bravo Steph Carpentere No Niente Volevo fare un hashtag ma non è uscito Oggi non è in forma Oggi non sono in forma con il hashtag Guardate quindi questa è la stanza da lavoro Qua guardate che bello È proprio bello 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 Sì sono molto soddisfatta Sai che anche qua dovresti metterle Dove? Per farle allineare Qui in questo angolo Qua non ci sono E c'è da tutte le parti E esce un po' bruttino Se non è che lì metto magari una libreria Eh pensavo comunque anche che Dobbiamo prima vedere come mettere l'arredamento Io le sto mettendo un po' così a casaccio Ok Però qui si cambiano in base a come arrediamo Ok allora aspetta che provo a mettere qualcosa lì Così Abbiamo la libreria Quella della scorsa casa che non siamo riusciti a mettere Perché era gigante C'era qualcosa di gigante che non abbiamo mai messo No questa l'abbiamo sempre messa Vedi però metterei questa così E poi anche lì alla destra qualcos'altro Eh esatto esatto E facciamo tutto così Riempiamo con l'arredamento Magari ne creiamo un'altra Che dici? Non so se si possono mettere due vicine Fai attenzione Guarda È bellino dai no? Eh aspetta che mi sto perdendo Sì 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 ci sta tutto Molto molto carino Stiamo facendo un ottimo lavoro Ovviamente Sì stiamo pensando più all'estetica Che alla funzionalità di sta casa Però ci sta Ovviamente le ceste le dobbiamo spostare E mettere un po' in tutta la stanza Cercando di dargli un senso Sì anche il pieno di toto Il pieno di toto tavolo Lo dobbiamo spostare Il pieno di sopra l'ha fatto C'è un sacco di roba Un sacco di lavoro da fare Però è già È un inizio Un ottimo punto Sì E sono contenta Perché comunque inizia a prendere forma Sembra già più proprio Una casa vera e propria Mentre invece prima Era solo lo scheletro Mettiamola così Esatto E quindi sono molto soddisfatta Mi piace mi piace Poi guarda già da fuori Quello che sarà il balconcino Tutte le finestre Dà diciamo Un bel effetto diverso Poi probabilmente Potremmo fare anche un tetto migliore Stavolta Quindi dà proprio un bel effetto E si spera anche Le fence Se riesci a fare i lingotti Esatto 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 Perché dobbiamo riuscire a fare anche quello E per quello ci servirà ovviamente Andare nel nostro garage Dove infatti sfrutteremo Un pochettino almeno Di quella stone Che abbiamo creato Certo Lo facciamo tutto così in pietra Sì sperando Non so se si può mettere anche Sai come muri Comunque speriamo che vi sia piaciuto l'episodio Stiamo andando bene con questa casa C'è ancora un sacco di roba da fare Però È divertente fare così Facciamo un episodio alla settimana In questo momento Perché è super impegnativo A prepararlo ogni volta Anche adesso Tra un episodio e l'altro Sistemeremo le ceste Ci vogliono proprio Tantissime ore Avete visto che comunque Ogni cosa richiede Anche più di un'ora Solo per essere creata Quindi Già questa registrazione È più di un'ora Quindi Quindi Ci vuole tanto tempo Però È divertente Ci fa piacere Fino a quando vi piace E piace anche a noi Però che si riesce così Lasciateci un like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Ciao